ciao a tutti ragazzi e bentornati su cubecraft per fare le egg wars come vedete sono qui insieme a eren blade ciao a tutti che mi aiuterà in questa egg wars in due quindi sarà molto molto complicata ragazzi perché non è facile però se giochiamo bene ce la possiamo fare ed eccoci entrati nella mappa forest sei pronto eren a spascare tutto perfetto vado a prendere allora i cosi prendere a te sono acqua mi stavo già confondendo vado a prendere subito questi tra la via di rush il team di fianco vorrei far notare che è spawnato con l'armatura come un quello di noi pino si di fianco noi allora il vip in cino allora sarà dura questa va beh basta che rispacchi l'uovo e spacchiamo e niente vip non vip l'uovo è sempre quello diciamo così l'uovo non è vip tu dici non fa il vip proprio non si fa desiderare non hanno l'uovo di ferro diciamo bardato esatto tu quanti quanti 25 non so se stanno già arrivando stanno bardando però loro è stanno bardando e si e ma visto ma visto sta arrivando e ma visto ma visto tutte e due insomma le sto salendo faccio lo stesso giochino di prima se riesco cioè faccio geronimo e mi butto giù e poi vado di qua e poi seguendo tantissimo e poi faccio così e lo rompo e lo rompo boom tu barda lì eh si si ho già bardato ok non ce l'ho fatta però occhio che arriveranno adesso di cattiveria ho fatto la stessa tecnica stanno arrivando che arrivano arrivano si si arrivano allora adesso aspetta di stare molto molto attenti dove sono io mi faccio trovare qui con la spada è stanno arrivando con i blocchi vedo ok quindi anche io qualche blocco mi sa che me lo fa uno è caduto uno di loro è caduto l'altro sta correndo corre verso di noi mi ha un piccone in mano io spacco tutto qua sta salendo però sai ok ok tale vuole prendere dall'alto l'uovo mi sa sì aspetta che io provo a salire sull'albero e anticiparlo vediamo ok lo vedo lo vedo dimmi da che parte è preso preso perfetto ciao ciao se l'aspettava ottimo eren perfetto l'abbiamo l'abbiamo fatta allora io c'ho solo una spada ma dovrebbe bastarmi spero al limite lasciami il piccone e ti cedo le mie cose se vuoi allora lateralmente non c'è niente perfetto dall'altra parte noi siamo libri erano questi qui si trovavano in mezzo al baccano ok così ok vabbè posso prendermelo da qua guarda vi faccio qua no ma ti do direttamente l'armor così non perdi tempo ok non ho i blocchi fatti i blocchi basta perché non sì sì i blocchi ne faccio a botte sai che in teoria può anche attaccare gli arancioni però forse sarebbe un po pretenzioso adesso e comincio ad andare al centro poi vediamo cosa possiamo fare ok qua ho fatto un bel ponte io ho avuto brutte esperienze con il team arancione purtroppo erano dei camperoni assurdi però non lo so questi qui in effetti se la stanno giocando un attimo allora loro è statica l'ho preso spero che nessuno mi abbia visto no non mi stanno vedendo c'è un sacco di ferro ma il diamante mi sa che è su può essere no no è giù è giù è giù tipo al centro dove c'è l'alberone ah l'ho visto ne ho presi un po non sono tanti però guarda finché sono cinque ce li facciamo bastare tranquillamente non mi stanno attaccando anche se mi hanno visto però non capisco perché non mi attaccano probabilmente non sono interessati a noi per il momento può darsi perché dall'altra parte ci sono in realtà c'è c'è un solo team ancora integro dall'altro lato ok che sono i i green noi green siamo noi quindi rossi invece di qua abbiamo gli arancioni sto tornando eren con 7 diamanti e 14 oro ottimo ottimo molto bene perfetto ti ho anche allargato il ponte proprio così non si cade allora attiviamo l'oro 5 e questo c'è e diamanti dov'è che sotto sotto perfetto ok niente adesso con calma se si riesce a fare un bel po d'oro mi guarderei io ne ho già 9 di oro se vuoi faccio la cassa dai ho 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 adesso la metto bene rosso ci prova non voglio quest'oro continuo tirare su l'oro arriva un rosso mamma mia scatta tantissimo sta tornando indietro scappa si lo devono buttar giù l'ho preso è nato giù è nato giù è nato giù è nato giù si 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 va bene va bene lui no però era uno di quelli ancora vivi diciamo ed era un vipettino anche perché ok aveva visto devo ritornare al centro l'armaturino devo fare un altro giro vuoi due qualcosa vai che sta attaccando l'arancione e ha tolto il ponte ha tolto il ponte a beh sapessi che danno mi sono portato via quattro ori però fa niente non importa no problem ecco ma ha preso a le frecce aveva a si già fatto a mi ha buttato giù con una frecciata infatti e vabbè e vabbè a ecco perché ha tolto il punto lo si spiegano tante cose essi ma non dimmi che adesso sta a camperare quello lì a dare potrebbe camperare al centro però abbiamo tante vie per andare al centro possiamo andare anche dall'alto che mi hanno come dov'è che mi hanno colpito non ha tolto di nuovo il ponte ma che barba ma non so dove sia proprio ok adesso l'ho capito ancora no ma allora e allora fanno apposta vuole sta spaccando di nuovo il ponte guardalo allora andiamo dall'altra parte sentito niente la sua tattica è quella possiamo andare dall'alto tec secondo me possiamo provarci ok adesso inizio a fare guarda che non arrivi qualcuno perché potrebbe essere esatto perché qua ho capito la scaletta è un po la scaletta brutta sì sì beh non è proprio perfetta no assolutamente allora allora intanto faccio uno strato di ossidiana appena riesco così siamo tranquilli meno per il momento vediamo un po da qua sono abbastanza in alto mi butteranno giù anche da qua probabilmente beh tu fatti tipo delle protezioni ai lati sei a posto penso ok sono su uno degli alberi del centro ottimo però qua adesso mi tocca scendere non so da che parte di qua per esempio non c'è nessuno forse al centro ok perfetto non c'è una scaletta per scendere no no però posso rifare il ponte d'altra parte ok no sono sceso sono sceso prendi soprattutto i diamanti sì sì cinque ne ho presi va bene sono tanti ma faccio anche loro a sto punto 8 ovviamente quell'arancione sta disturbando i rossi in questo momento sì penso di sì adesso riprendo il nostro ponte di prima vediamo se ce la faccio così faccio l'andata e il ritorno vediamo se non mi butta giù dai 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 che ho fatto storto ok perfetto io ho guardato l'uovo che ho rifatto il ponte anche quello solito quindi posso tornare indietro da lì con cinque diamanti e otto oro dov'è quello là ok guardando cosa sta facendo il buon buon arancione il nostro nemico ma io vado da sopra visto che mi sono fatto la stradina di là rifaccio almeno abbiamo due possibilità già esatto sta per attaccare un rosso che è full ferro tech da che parte dalle ponte norme l'ho visto l'ho visto se si avvicina siamo fritti e lo so si sta avvicinando vado là o vado là e sta arrivando sì aspetta devo fare al volo un arco si va al volissimo perché è lì a metà è tornato indietro è indeciso perché no mi ha frecciato ti ha frecciato l'altro rosso visto ma non mi ha preso non mi hanno mi ha buttato giù ok sono indecisi sul da farsi vero si dove l'altro attacchiano gli arancioni già che sono lì non lo so sta frecciando sta frecciando lì frecciano ci frecciano ho visto è sì penso amico lì ma sono tutti full ferro a parte noi è lo so non saranno lasciato che ne so io frecciano frecciano che vado a prenderlo adesso abbia buttato indietro avevo che sei oro peccato l'ho preso ancora non si è spostato di un millimetro con la freccia ce la fa io e vado al centro oppure dovresti passare dall'alto per andare a ci si si quello che voglio fare solo che con una frecciata mi toglie metà vita che è una cosa abbastanza pesante sto prendendo continuamente oro inutile io a farmi una mela durata che è dura e pesa arrivando arriva dovuto scendere e l'ho frecciato ma mi sa che è passato l'ho buttato giù sì oddio l'ho buttato giù ah scusari tu l'ho buttato giù cavoli ero stavo salendo con una freccia l'ultimissima c'è stato un colpo da da biliardo cavoli perfetto oh mamma mia ok dai sarà sarà una lunga serata ci dobbiamo bardare anche noi però quel generatore neanche al massimo ancora perché mi sono dovuto fare quest'arco scrauso ne lo so io sto cercando di ritornare al centro a riprendere ci serve assolutamente del diamante e lo so per forza hai ragione hai ragione tanta però pesa man pesa vabbè tanto il rosso lì è stato ben castigato ho altri cinque diamanti in arrivo ottimo forse in arrivo perché se riesco uscire di quasi io 23 24 anche mangiare adesso spero di mangiare ok dato non ci attacca nessuno al momento vero ok perfetto upgrade al massimo il diamante o e adesso si è un ottima cosa adesso con cinque io riesco probabilmente a farmi un po di armatura non mi ricordo quanto costa sai cinque ogni pezzo in quel pezzo allora cinque le prendo subito e mi faccio anche del cibo allora mi comincio a prendere la pettorina tanto io farmo sotto ok pettorina presa poi cibo faccio anch'io tutta l'armor così poi siamo a posto ok cavoli sono rimasto pochi cuori ok gli amanti stanno andando a manetta dimmi che stanno andando a manetta gli stanno andando a manetta tranquillo ok ne abbiamo altri otto i rossi si sono calmati tu guarda esatto ci attacca da sopra ci vorrà l'arco forse ho la spada io prendo la spada due me ne servono ancora però tu guarda se arrivano che scendo un attimo eh sì sì mi sa che arrivano ok ora serve la spada serve la spada serve la spada vi vedo spada in diamante ok ultimo pezzo di armatura piedini ok ma vede come che arriva sono a full ferro col diamante mi ha visto e tornato indietro perfetto preso ciao e va giù un altro rosso full con la mela l'arco incantato tutto fatto benino bravo bravo ci saluta ciao ci ha salutato perfetto sì sì c'ha proprio detto ciao ciao con la manina ecco il punch ho anche l'arco Eren perfetto allora io cerco di tornare giù se per un attimo ci danno tregua sì purtroppo dobbiamo tirarli giù noi rossi perché gli orange si sono chiusi nella loro base si stanno facendo le ruote invece noi siamo esposti con un doppio ponte quindi dobbiamo essere noi ad attaccare eh sì piccone dieci oro ok e la spada così la spada ce l'ho le frecce se vuoi ho trentadue frecce le ho lasciate nella cassa sì io ho già uno stack praticamente quindi io provo a salire dalla via stradina dell'albero va bene allora dobbiamo prendere gli arancioni e i rossi eh direi che la nostra priorità sono i rossi perché gli arancioni si sono chiusi senza ponti nell'isola quindi non sono pericolosi i rossi da che parte sono? vediamo un po' dalla parte opposta tipo loro ci stanno dando parecchio fastidio invece e adesso andiamo a dargli fastidio anche noi a questo punto esatto io sono al centro adesso sto andando a vedere se riesco salendo dagli alberi perché giustamente essendo una mappa foresta bisogna sfruttare gli alberi ok vediamo i rossi dove sono ok io mi sono bardato direi abbastanza bene qui scendo ok ho preso un po' di danno ma non importa dunque i rossi sono piuttosto lontanini allora aspetta vedo poi si sono ricollegati gli arancioni ti attaccano a noi? ah eccoli attaccantelli ok l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto mela no 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 mela 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 ha fatto i furbi ci hanno aspettati si 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 ma non ah sono in due sono in due sono in due sono in due comincio a correre allora questo punto eh non ce la faccio mi sa che mi seccano mi seccano mi seccano mi seccano mi seccano attenzione tecca l'attacco tecca l'attacco tecca l'attacco tecca l'attacco tecca l'attacco tecca tecca l'attacco Non hanno visto Tech Che è entrato nell'uovo dei rossi Come l'uovo dei rossi? Stai buono E rompe! E Tech rompe l'uovo Sorpresa di Tech L'uovo con la sorpresa Adesso mi uccidono però No è stata bellissima Dobbiamo resistere Dobbiamo resistere Eccoli Allora prendo la Accidenti Faccio finta di non vederli Mentre viene sul ponte Così lo tiro giù d'arco Incredibile Sono nell'isola di fianco Tech Se tu passi dall'alto E loro sono entrambi di fianco Sai che gli freghi l'uovo? Sì? Allora aspetta Questi qua sono gli arancioni Tu vai al centro Mentre loro sono qui Uno sta salendo È che non ho il piccone Aspetta allora Tieni Ok Tieni il mio Dov'è il piccone? Perché ci frecciano? Non lo vedo Te l'ho droppato? Ah l'ho preso L'ho preso Devo farmi i blocchi Fammi i blocchi Aspetta Ti hai fatto una casetta Per frecciarci da lì Impressionante Vado su da qua però Provo a salire da quest'altra parte Cerca di non farti vedere magari E qua non so se vedo Uno lo vedo L'altro si è shiftato Mi sa perché non lo vedo più in realtà Li vedo uno solo Ok Sto andando al centro No è impossibile che sia passato Ti freccia Ti freccia Ok li vedo Sono entrambi in quell'isoletta Se passano per tornare in base Ora li tiro giù Quindi si sono messi nei casini da soli Adesso da che parte Ma la loro base come la raggiungo così? E l'arancione è di fianco agli azzurri Tipo qua Ciao Ciao Fregati a dir fuoco direi Aspetta eh Che c'è la Stanno arrivando Dimmi se arrivano perché Devo rompere l'ossidiana Sono qui da me Sono shiftato Eccolo Ooooo Che buono cosa fate? Eh signorini E adesso vi rubo anche le cose qua Eh adesso siete dei topolini in trappola Allora Guardali lì tutti intrappolati Non sai più cosa fare Eh sì Hanno accusato il colpo Eh beh È stata strategia Allora Aspetta che prendo l'arco da loro Con l'oro diamante Perché ha sfregio proprio Eh beh Eh beh ovviamente E le frecce Ora sono bloccati dagli azzurri Loro proprio Eh beh Dicono ai moa Stiamo qua Stiamo qua Niente Aspetta eh Ce n'è uno là Che mi ha frecciato Ecco ce n'è uno sul ponte Ah ha fatto lo scudo Ha fatto Ecco Sì 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 L'ho visto Li vado a spaccare il ponte Così Uno sta tentando di arrivare da te Sta arrivando eh Sì ma lo scudo Eh lo so Eh eh Solo che adesso gli spacco il ponte Se vuole passare Deve mollarlo lo scudo A un certo punto Eh sì Quindi vedi tu cosa fare Sta lentamente shiftato Con lo scudo Torna indietro Tec È disperato È l'altro anche È abbastanza disperato È l'altro sta farmando No no è lì Che sta frecciando me Praticamente al villager Non lo riesco a prendere Da qua però Preso Uh Si è spaventato È scappato È scappato No non l'ho preso Cavoli lo stavo tirando giù Lo stavo tirando giù Non mi uccideranno mai Perché ho solo mele d'oro Praticamente Mi cibo di quello Con il loro oro Ovviamente Ho 23 vele d'oro Tanto io lentamente Ho completato Doppia bardatura Sandstone E doppia ossidiana Perché Adesso tornare qui Non ne vale neanche la pena Dato che Siamo da due punti E ci conviene Alla fine Ci prova ad arrivare Adesso ha messo lo scudo Prova ad avvicinarsi Da che parte? Era distrazione Uno è andato al centro Va al centro E uno da me Preso Uno l'ho buttato giù Tec Uno arriva al centro Sì sì l'ho visto l'ho visto Preso Ah non è caduto giù però Sto arrivando da lui Vado da lui Vado da lui al centro No sono caduto Per una Per una Un zik Sono caduto Eren Siamo due contro uno Uno l'abbiamo tirato giù Ci hanno provato E hanno fatto una cosa intelligentissima Perché ci hanno distratti Sì Sono caduto da stupido proprio Va bene Ma è il solito discorso Delle collisioni Che Mi fanno cadere anche a me a caso Ogni volta Sì infatti Non lo dico mai Come giustificazione No no ma Ogni tanto salti E c'era il blocco davanti E praticamente scivoli giù Esatto Questo è quello che è successo La dinamica è quella Allora il signorino Sta facendo un ponte Una scala per Andare in alto Ok Quindi io preventivamente Vado su Io però adesso Sai cosa faccio? Mi prendo Caduto giù Le mele dorate Con calma Con calma Perché Possiamo farcela Ah sono caduto giù ancora Vedi che C'è un buco C'è Ok Sta arrivando Sì sì Dimmi se arriva Che prendo anche l'arco Adesso E arriva dal ponte in alto Ah Prova almeno Oh ce l'ho qui Ce l'ho qui Dov'è? Dov'è? È qua di sopra E non Se viene giù Lo prendo Lo sto Lo sto colpendo Ho visto Ho visto E da qua non posso fare niente Ok mi sono buttato giù anch'io Ok Ho vinto la mela Ha mangiato la mela eh La mela OP? Non lo so Può anche darsi Aspetta sta scendendo Sta scendendo Eccolo Tech Vai vai Spammiamolo giù Eh sto cercando di spammarlo È inutile che rompi il coso eh Dove è andato? Non ce la farà mai a romperlo Anche se ha il piccone power Oh yes L'ho ucciso pure io GG ragazzi GG Partitone Partitone Bella E questa ragazzi era la Eggworks di oggi È stata una partita veramente fantastica Abbiamo rotto tre uova su sei team E abbiamo fatto fuori credo due o tre team in totale Quindi non è andata affatto male Ringrazio Erenblades che mi ha supportato in questa battaglia Ricordo il suo canale in descrizione E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao